Siamo preoccupati perché Conte continua a parlare di acquisti alla Ciampolillo, i vaccini non arrivano alle regioni, i ragazzi in classe hanno delle difficoltà, i rimborsi promessi agli imprenditori non arrivano e abbiamo un Presidente del Consiglio che si dedica alla caccia al senatore alla Ciampolillo. Un governo che si fonda su ex forzisti, ex grillini, Mastella, Ciampolillo e Reducci non penso sia il governo che salva il Paese. Onorevole Renzi oggi ha aperto un governo di unità nazionale e ha detto noi ci saremo, è una proposta che potrebbe essere messa su. Mi sto occupando di scuola, di lavoro e di vaccini, non di fantasia. Sì, però adesso bisogna passare da Mattarella e quindi qualcosa gli verrà chiesto, probabilmente anche questa è un'opzione che gli verrà presentata, voi ci sareste? Parlo di vita vera, non di fantasia. Aspetta, ma come mai tutti questi vertici? Non è che temete altri cascoli dopo i due di Pazza Italia? Dove essere compatto anche il DC, cambiamo? Assolutamente sì. Grazie. Grazie.